Buonasera a tutti, sono Minotti Luca, nuovo titolare della verità veneziana in Tenerita. Mi presento la macchina che ho comprato, Innova, una peca d'ora perfetta, molto robusta, che ho conosciuto per internet e tramite commerciale l'Unfa, ho ricevuto tutte le informazioni del caso, mi hanno assistito in tutto, le informazioni, la presentazione, la consegna, è stato tutto perfetto. E quindi, posso inserirlo a tutti, senza dubbio, lavoro molto bene, molto robusta, di fabbricazione italiana. Grazie.